che cosa è la grammatica rispondere a questa domanda non è così semplice come potrebbe apparentemente sembrare la parola grammatica ha infatti diversa eccezione una di queste eccezioni è legata all'esperienza di apprendimento che ognuno di noi ha per cui la grammatica è considerata l'insieme delle norme che regano gli usi scritti e formali della lingua a cui tutti ci dobbiamo uniformare nella prospettiva della linguistica contemporanea la grammatica è invece considerata l'insieme delle regole che nella comunicazione interpersonale governano l'uso dei diversi sistemi in cui si articola la lingua quindi sistema fonetico morfologico lessicale sintattico e testuale in base a quest'ultima accezione tutti i parlanti conoscono la grammatica perché nel momento in cui usano la lingua fanno riferimento a regole che consentono la comprensione e la produzione di enunciati si tratta però di regole implicite che i parlanti usano ma che non sanno necessariamente esplicitare spiegare la parola grammatica indica però anche il libro in cui le regole di una lingua sono descritte cioè spiegate possiamo quindi affermare che mentre tutte le lingue hanno una grammatica secondo la precedente accezione a cui abbiamo accennato non tutte le lingue hanno una grammatica intesa come il libro in cui sono spiegate le regole della lingua ci sono infatti lingue nel mondo le cui regole non sono descritte nei libri e vengono apprese dai parlanti solo attraverso la comunicazione questo implica da un lato che la lingua non può essere può essere appresa ed utilizzata dai parlanti anche se le sue regole non vengono descritte e spiegate e quindi possono essere apprese in maniera implicita dall'altro che la lingua esiste indipendentemente ed è utilizzata e funziona indipendentemente dalle spiegazioni che noi possiamo saper dare sul funzionamento della lingua ma anche riferendoci alla grammatica come testo che spiega le regole di una lingua possiamo riferirci a cose diverse infatti possiamo distinguere diverse tipologie di grammatica in base agli scopi che che si propongono al pubblico a cui si rivolgono e all'oggetto che prendono in considerazione la grammatica teorica ha lo scopo di spiegare i fatti linguistici alla luce di una teoria di riferimento e quindi di validare questa teoria i destinatari sono i linguisti addetti a lavori e l'oggetto è un settore della lingua che consenta di validare la teoria in oggetto le strutture della sintassi di noam chomsky ad esempio prendono in considerazione soltanto la sintassi per dimostrare come una certa teoria la teoria generativa trasformazionale effettivamente funzioni le grammatiche descrittive invece hanno lo scopo di descrivere i fatti linguistici e di essere il più possibile esaustive nel fare questo nel descrivere questi fatti si rivolgono a linguisti addetti ai lavori che comprendono anche docenti di della l1 o della l2 e come oggetto hanno tutti i fatti della lingua perché il loro scopo è descriverne appunto il funzionamento il ci sono poi le grammatiche pedagogiche che hanno lo scopo invece di facilitare l'apprendimento della propria lingua o di una lingua secondo straniera sviluppando una conoscenza di tipo esplicita cioè non solo la capacità di usarla ma anche la capacità di saperla descrivere di conoscere le regole saperle spiegare i destinatari sono gli apprendenti di questa lingua in questo nel caso specifico dell'italiano come lingua materna o lingua seconda e l'oggetto di una grammatica pedagogica sono dei fatti linguistici che sono selezionati in base ai bisogni degli apprendenti e vengono analizzati secondo più teorie linguistiche quindi noi abbiamo per esempio le grammatiche per la scuola primaria per la scuola secondaria di primo grado per la scuola secondaria di secondo grado grammatiche per gli apprendenti stranieri di livello 1 livello 2 livello b1 e così via tra le tre tipologie di grammatica ci sono del naturalmente dei rapporti e delle implicazioni le grammatiche teoriche analizzando i fatti linguistici forniscono delle teorie descrittive delle teorie dei modelli descrittivi che ci consentono di poter descrivere i fatti linguistici le grammatiche descrittive sono per loro natura eclettica cioè non fanno riferimento ad un unico modello teorico ma più modelli per cercare di descrivere più fatti linguistici possibili le grammatiche pedagogiche attingono dalle grammatiche descrittive le descrizioni dei fatti linguistici ma le semplificano le adattano al tipo di pubblico a cui vogliono destinarle inoltre le grammatiche pedagogiche associano alle descrizioni quindi alle spiegazioni del funzionamento della lingua anche altri strumenti come per esempio esercizi e glossari per comprendere le parole proprie della descrizione linguistica in maniera tale che si possa verificare l'apprendimento esplicito della regola ma anche condurre a una competenza di tipo procedurale cioè alla capacità di usare questa regola nella comunicazione che cosa sono in concreto le grammatiche pedagogiche sono i libri di testo della scuola quindi i manuali di grammatica le sezioni dei sussidiari per i bambini della scuola primaria le grammatiche appunto per la scuola secondaria di primo grado la scuola secondaria di secondo grado che vogliono fare in modo che lo studente possa essere in grado di riflettere sul funzionamento della lingua ma sono anche le grammatiche di riferimento di italiano per stranieri o le sezioni di grammatica all'interno dei manuali didattici per l'insegnamento dell'italiano L2 quindi le grammatiche pedagogiche consistono in una pluralità di strumenti di cui l'insegnante dispone per poter fare in modo che possa essere sviluppata la competenza metalinguistica il corso di grammatica italiana si articola in due moduli il primo che comprende 36 ore di lezione e consente di conseguire 6 cfu si centra sulla descrizione della lingua italiana a diversi livelli di analisi linguistica quindi dal livello fonetico fonologico a quello morfologico sintattico e testuale le forme prese in considerazione sono quelle delle varietà linguistiche centrali nel repertorio linguistico italiano e le varianti regionali della lingua italiana il secondo modulo di 18 ore che si aggiunge a quello precedente per portare al conseguimento di 9 cfu si focalizza invece sulla grammatica pedagogica prendendo in esame le scelte metodologiche che sono la base della selezione e della sequenziazione dei contenuti grammaticali che devono essere affrontati in un corso di lingue e illustrando le modalità con cui oggi si sviluppa la competenza metalinguistica nell'insegnamento dell'italiano L1 e L2 con cui